pesaro celebra l'unità nazionale e la giornata delle forze armate il prefezzo ricciardi saluta alla provincia consegnando 18 onoritori il conservatorio non dimentica intitolate due aule a costantini con limo nuove opportunità alla vocazione d'impresa dei giorni via al 45esimo festival dell'olio dopo di cartoceto una buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati al nostro consueto appuntamento serale con l'informazione di rossini news telegiornale di venerdì 4 novembre una data in cui ricorre il giorno dell'unità nazionale d'italia e la giornata delle forze armate celebrazioni che questa mattina sono state commemorate dalla città di pesero in una solenne ricorrenza nelle cortile d'onore del 28esimo reggimento pavia vediamo l'alza bandiera la sfilata delle forze armate delle forze di polizia delle associazioni combattentistiche e la deposizione della corona dall'oro in memoria dei caduti delle guerre è questa la ricorrenza del 4 novembre che oggi è stata ufficiata celebrata all'interno della caserma del 28esimo reggimento pavia che ha aperto le sue porte alle istituzioni civili militari e religiose alle scuole era presente una delegazione dell'istituto agrario cecchi per commemorare questa ricorrenza quella del 4 novembre 1918 dell'armistizio di villa giusti che completò di fatto l'unità d'italia con l'annessione dei territori di trento e trieste completando una unità cominciata in periodo risorgimentale è anche la giornata delle forze armate è anche la giornata di commemorazione del militegnote tante ricorrenze ricordate dal comandante del 28esimo reggimento pavia una giornata fondamentale in cui si vive avete visto anche voi la vicinanza tra le forze armate e la popolazione avete visto anche gli studenti presenti con noi noi ci teniamo affinché le nostre forze armate l'esercito di cui io faccio parte siano parte integrante della comunità siamo al servizio del paese non solo in occasione di eventi quali crisi guerre conflitti ma siamo qui per voi sempre in ogni occasione e per il comandante di leonardo insediato da circa un mese al comando del 28esimo reggimento pavia è una prima apertura della caserma la città ma anche una sorta di ritorno a casa questa è la mia prima volta comandante di reggimento però devo dire una cosa perché è la prima volta che interagisco con voi con la stampa e con i media io sono stato qui per la prima volta nel 2003 quando il reggimento era in chiusura era imprevista chiusura ed era destinato ad essere appunto un monumento un parcheggio invece lo stato maggiore a me e altri ufficiali ha affidato il compito di riconfigurare quello che era il vecchio car ovvero il reggimento del reggimento del reggimento reclute in un reggimento ad altissima valenza operativa che è quello che vedete oggi quindi per me è un ritorno è una grandissima emozione perché ho fatto tanti passaggi qui come comandante nelle varie unità sottordinative del reggimento quella compagnia il battaglione e oggi sono onoratissimo di essere il 72esimo comandante di reggimento e sono anche felicissimo di essere tornato a Pesaro che è una città che io adoro e penso la mia famiglia si stabilirà qui definitivamente proprio a sancire l'amore che ho verso la città io continuo a fare il pendolare mentre la mia famiglia rimarrà qui e da Pesaro ci spostiamo a Montecchio dove anche il comune di Vallefoglia ha voluto celebrare la ricorrenza del 4 novembre ricordiamo anche i fatti in questo momento siamo nella piazza dello scoppio di Montecchio e ricordiamo i fatti che riviviamo un po' ricordiamo i fatti che vengono in Ucraina qui Montecchio con lo scoppio del 21 gennaio era tutto raso al suolo qui non c'erano più né case era caduto tutto e qui sulla scalinata abbiamo un monumento ricordo anche delle 33 persone morte in occasione di quella giornata tra i disastri della guerra e gli imprevisti che possono capitare ecco questo è il momento più importante dell'anno dei ricordi ahimè ancora non solo la guerra in Ucraina nel cuore d'Europa ma oltre 30 guerre nel mondo sono davvero un disastro dell'umanità e quindi occorre quanto mai insieme abbiamo voluto alle scuole alle associazioni combattentistiche d'arma alle associazioni eredici combattenti che ricordano la seconda e la prima guerra mondiale mai più guerre e quindi sensibilizzare l'opinione pubblica a una grande coesione, una grande unità nazionale ed europea e a garantire la sicurezza attraverso il riconoscimento del ruolo importante delle nostre forze armate che nello scenario europeo nel quadro della Nato consentono a questo paese di vivere in democrazia, in libertà e in pace la pace è una conquista bisogna manifestare come ricorda spesso e volentieri il Papa deporre le armi cooperare, collaborare per mettere al bando tutte le guerre e lavorare per il benessere, per la pace per la crescita e per un futuro migliore per le nuove generazioni Non solo celebrazioni, anche onorificenze quelle che il prefetto della provincia di Pietro Borbino, Tommaso Ricciardi ha consegnato oggi a 18 illustri cittadini della provincia un'occasione molto particolare, ancor più perché il prefetto ha avuto anche modo di salutare le istituzioni e la città a 15 giorni dal suo pensionamento 18 onorificenze all'ordine al merito della Repubblica Italiana quelle che questa mattina il prefetto Tommaso Ricciardi ha conferito nel Salone Metaorense di Palazzo Ducale ad altrettante illustri personalità della provincia di Pesaro Urbino Su tutti i medici, infermieri e scienziati impegnati in prima linea nella pandemia e nella campagna di vaccinazione anti-Covid ma anche amministratori, imprenditori e docenti Ricciardi ha lasciato il proscenio alla passerella di premiati prima di diventare l'inevitabile protagonista della cerimonia col suo emozionato congedo da Pesaro visto che fra 15 giorni andrà in pensione Quello che mi ha più colpito e che rimarrà scolpito nel mio cuore è l'accoglienza l'accoglienza che ho avuto da tutti e a tutti i livelli questo è il ricordo più bello di questa città per me, di questo territorio e poi la possibilità da pensionato di potermi godere un poco questi borghi fantastici questa entroterra meravigliosa Nell'occasione Ricciardi ha voluto fotografare anche lo stato della criminalità sul territorio durante la sua permanenza Abbiamo registrato un aumento un percentuale del 9,14% ma perché? Perché dopo due anni di stasi dettati dalla pandemia anche i sodalizi criminali si sono un pochettino dovuti fermare hanno dovuto segnare il passo e tuttavia, come ho detto e come dirò sempre qui si ha una abbastanza buona percezione della sicurezza qui il problema della sicurezza e della criminalità non ha mai fino adesso e speriamo anche per il futuro assurdo a livelli di criticità o di drammaticità è un territorio ben governato ma soprattutto per il senso di responsabilità che hanno sia il mondo imprenditoriale che la collettività Applausi per il prefetto applausi per i cavalieri nominati dal prefetto una passerella cominciata con le dottoresse Roberta Bergamaschi e Marta Bianco e continuata col decano delle moto Paolo Campanelli l'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli i medici Eugenio Carlotti Gabriele Lani e Luca Dascanio la professoressa Paola Fraternale Meloni il dentista Salvatore Gallo la dottoressa Anna Olivetti la presidente degli infermieri Laura Biagiotti il dermatologo Fabrizio Valeri le dottoresse Sofia Bernardini Cosetta Foschi e Daniela Vandini Onorificenza di ufficiale per l'ex dirigente dell'ufficio scolastico Marcella Tinazzi Onorificenza di commendatore al dottor Ferruccio Giovanetti Onorificenza di grande ufficiale ad Alberto Dolci e infine medaglia d'oro e diploma di vittima del terrorismo all'ex ispettore di polizia Antonio Cardinali Ho avuto l'onorificenza di grande ufficiale che è una alta onorificenza spero di essermela meritata perché mi riempie di orgoglio e effettivamente in una giornata come questa insomma fa veramente piacere vedere tutte queste persone riunite che in qualche modo sono state utili alla società svolgendo i loro incarichi sia di lavoro che di volontariato Oggi è stata una grande soddisfazione per noi infermieri vedere riconosciuto nella presidenza dell'ordine di Pesaro Urbino questo benemerito un benemerito che ricade a cascata su tutti gli infermieri vaccinati che non hanno mai smesso di lavorare ininterrottamente sotto il periodo della pandemia L'emozione è veramente molta perché è una cosa anche inaspettata e mi fa molto piacere posso solo dire e spero di meritarmela chiaramente nella mia vita lavorativa ho sempre cercato di mettere davanti l'interesse generale e il bene collettivo speriamo di esserci riusciti e spero che questo premio io lo chiamo tale sia conseguente a quello che ho fatto E cambiamo argomento e parliamo del Conservatorio Rossini di Pesaro che non dimentica la sua storia motivo per cui sono state intitolate due aule di Palazzo Olivieri a due grandi docenti del Conservatorio La storia non si dimentica oggi è una giornata importante per il Conservatorio Rossini perché celebra e dedica a due suoi ex maestri due aule del Conservatorio È un momento molto bello sarei di dire toccante perché si vanno ad esplorare valori che non dobbiamo mai dimenticare come la responsabilità il merito individuale l'attaccamento al proprio ruolo educativo quindi oggi noi abbiamo dato riconoscimento a delle persone che hanno caratterizzato la fase del loro impegno verso questo conservatorio in modo a mio avviso indimenticabile ed è per questo che un'istituzione importante e prestigiosa può dire qui possiamo dire dedicato a Tizio Accaio oggi abbiamo riconosciuto a Costantini e a Giordani due aule perché questo rimanga come storia dell'identità costruita con tanti impegni di tante persone che hanno dedicato un'intera vita per far crescere i giovani dando esecuzione al mandato di Rossini che ha voluto proprio verso i giovani concentrare le sue risorse e realizzare questo prestigiosissimo conservatorio questo istituto è un grande libro è un libro aperto e visitando le sale visitando, salendo le scale per venire al palazzo ci si rende conto di quante vite siano passate qua e tutte queste vite insieme hanno costruito la storia di questo istituto del conservatorio Rossini e c'è una storia diciamo storica quella dei grandi direttori da Mascagni Zandonai Zanella i grandi cantanti Mario del Monaco Renata Tebalti poi c'è una storia contemporanea che è la storia diciamo del Novecento del Novecento la seconda metà del Novecento dove il conservatorio ha continuato ad avere figure di primissimo piano che hanno segnato la storia di questi ultimi 50 anni e tra queste sono due figure importantissime uno appunto è il maestro Marco Costantini che è stato un docente storico di Fagotto e che ha iniziato a questo strumento quelli che sono poi diventate le prime parti dei grandi teatri internazionali quindi Marco Costantini era ed è tuttora oggi un punto di riferimento per chi studia questo strumento quindi è riconosciuto a livello internazionale l'altra figura che abbiamo voluto ricordare oggi è il nostro collega di musica elettronica potremmo dire quasi un cofondatore perché è vero che la cattedra di musica elettronica fu fondata da Walter Branchi ma in realtà lui arrivò proprio a ruota perché fu uno dei primissimi lievi e portò avanti per 40 anni la musica elettronica a Pesaro consideriamo che la scuola di musica elettronica che ha già più di 50 anni è stata una delle prime cinque classi di musica elettronica del nostro paese ecco quindi diciamo che tutte e due queste figure in particolare Eugenio che era proprio un pesarese doc che frequentava la città in tutte le sue forme hanno fatto sì che in questa giornata queste due figure siano state riconosciute oltre che dal conservatorio anche dalla città rappresentata dal vice sindaco si chiama Limo un nuovo progetto che vuole sollecitare la vocazione di impresa dei giovani attraverso quattro incontri conoscitivi organizzati dal comune di Pesaro e da diverse associazioni del territorio incontri che iniziano proprio domani alla biblioteca Cinque Torri Limo è un acronimo e significa linguaggi, imprese e opportunità è un progetto sostenuto dal comune di Pesaro e finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento della Gioventù del Governo Centrale è un progetto che vuole fare incontrare ai ragazzi i giovani professionisti che hanno trasformato le loro passioni in lavoro questo nella prima fase e nella seconda fase accompagnare nuove idee di giovani a una forma imprenditoriale o comunque dargli forma quindi partiamo con quattro incontri fino a dicembre adesso che li abbiamo chiamati Inspire su quattro tematiche una è la moda una è l'illustrazione una è l'arte e una è l'innovazione tecnologica legata al metaverso alle criptovalute e alla blockchain per poi arrivare a dicembre a una call lanciata ai ragazzi del territorio che dovranno rispondere dicendoci quali sono i loro sogni le loro idee la loro idea imprenditoriale che noi accompagneremo in un percorso da gennaio a maggio cercando di dargli struttura quindi lavoreremo sulla brand identity sulla sostenibilità con il business plan e avremo dei formatori importanti che metteremo a loro disposizione il percorso è destinato a giovani tra i 14 e i 35 anni è assolutamente gratuito per tutti abbiamo una landing page una pagina dove i ragazzi possono vedere un po' la struttura dei vari blocchi del progetto iscriversi al sito Eventbride quindi per notare i loro riposti l'invito è a farlo velocemente perché ovviamente i posti essendo un'esperienza gratuita con dei professionisti super li stiamo esaurendo velocemente è un progetto portato avanti dalle associazioni giovanili del territorio quindi il capofila è Zoe ma ci sono anche tavolo studenti seconda era Giogrà Sistema Critico Tribal Ex e Terre questo è un nuovo progetto che si inserisce nel percorso di Città Italiana dei Giovani durante il quale abbiamo cercato di lavorare su quello che era il disagio su quella che era la consapevolezza dei nostri giovani su alcune tematiche ebbene adesso cambiamo un po' indirizzo e cerchiamo di dare una formazione ai nostri giovani che hanno voglia di mettersi in gioco quindi ci saranno quattro incontri basati su arte moda tecnologia e un ultimo incontro molto importante sull'uso consapevole dei social ed ora ci occupiamo di spettacoli perché arriva a Pesaro in prima e in esclusiva regionale un vero e proprio mito della scena come Ute Lämper vera e propria stella internazionale dal fascino magnetico la celebre cantante attrice tedesca insuperata interprete contemporanea del cabaret berlinese e della canzone d'autore salirà infatti domenica 6 novembre sul palco del teatro sperimentale per presentare Rendezvous with Marlene e parliamo invece del San Costanzo show che da inizio alla sua tournée di novembre questa domenica con lo spettacolo al teatro Conti di Acqualagna alle ore 18 all'interno del programma della festa delle tartufo lo spettacolo è Cesare a gusto e toccherà i teatri di Acqualagna Fano Cagli di Pesor San Lorenzo e Campo e Cartocetto con i suoi salti nel tempo dall'epoca moderna ai tempi dell'impero romano al termine dello spettacolo ci sarà anche la proiezione della scoperta del secolo un cortometraggio ideato e diretto dal San Costanzo show i cui comici simulano la rocambolesca scoperta della famosa basilica di Vitruvio e domani sabato 5 novembre all'interno dei tanti appuntamenti del weekend della 57esima Fiera del Tartufo Bianco di Acqualagna ci saranno tanti ospiti chef stellati e una carrellata di appuntamenti tra questi alle 16 in piazza Mattei il sindaco Luca Lisi conferirà la cittadinanza onoraria a Giancarlo Magalli per il grande contributo del popolare presentatore televisivo nel diffondere il nome di Acqualagna e della sua fiera in Italia sia attraverso le trasmissioni di cui è stato autore sia attraverso la sua presenza ultraventennale all'interno delle edizioni della fiera e dall'oro della terra quale è il tartufo passiamo all'oro verde delle marche che spegne 45 candeline tante quante le edizioni del festival cartoceto dopo della mostra mercato dell'olio e dell'oliva di cartoceto un festival che riparte questa domenica 6 novembre con la prima di due domeniche di questa 45esima il 6 e il 13 appunto di novembre vi aspettiamo a cartoceto nella kermesse dell'olio dell'olio verde anche quest'anno tante novità ma cureremo sempre comunque la tradizione quindi sicuramente ci sarà lo stand dei produttori in piazza che vi aspettano con tutti i prodotti di qualità e a chilometro zero ci saranno le degustazioni in piazza sempre Garibaldi con Food Brand Market e il consorzio dell'olio DOP che ci faranno conoscere un pochettino meglio l'olio nuovo e anche ci impareranno a riconoscere l'olio DOP cartoceto da quello non certificato quindi anche qui un appuntamento importante poi avremo come sempre i sentieri verdi quindi le passeggiate in bici e a piedi avremo gli autoraduni i motoraduni che ci verranno a fare visita come tutti gli anni immancabili gli spettacoli a teatro anche quest'anno avremo grandi artisti che arricchiranno il nostro teatro il coinvolgimento degli istituti sia gli istituti superiori che il nostro istituto Marco Polo di Cartoceto avremo una novità quest'anno ci sarà il profumo all'olio DOP a Cartoceto che ci sarà possibilità anche di acquistare durante la manifestazione e poi anche nei nostri locali di Lucrezia e Cartoceto lo chiamerei più un modello di sviluppo socio-economico di un territorio d'altronde quello che è declinato all'interno di quel contenitore è tutto ciò che non soltanto Cartoceto ma il territorio della reale della DOP Cartoceto che ricomprende ricordiamone sempre anche i territori dei comuni di Fano di Coglio del Metallo di Monbaroccio racchiude può esprimere può ancora sicuramente sviluppare in termini potenziali ecco perché sicuramente insomma l'essenza l'anima l'identità è da sempre rappresentata in questi 45 anni dall'eccellenza agroalimentare che è appunto l'unica denominazione di origine protetta olearia di tutte le marche ma è per lo stesso motivo per il quale dal 2014 abbiamo appunto voluto costruire attorno questa formula festivaliera che fosse in grado di esaltare un po' tutti gli asset di interesse di attrazione turistica del territorio stesso proprio perché possa diventare una declinazione del modello di sviluppo socio-economico che le marche hanno in testa e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News come di consueto prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti sul nostro canale 80 a cominciare dalla prima serata di questa sera alle 21 e 20 in cui rivivremo le emozionate premiazioni del 75esimo festival GAD del quale vi avevamo dato notizie anche lunedì nel nostro telegiornale Rossini News vedremo i premiati nello speciale realizzato dal nostro Paolo Pagnini in questa 75esima edizione del Festival Nazionale d'Arte Drammatica e poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali domattina in diretta alle 7 e 20 ci sarà il nostro Marco Cadeddu a tenervi compagnia e poi invece sarà il nostro Antonio Astuti lunedì sera a tenervi compagnia con la seconda puntata della nuova stagione di Check Up Obiettivo Salute un programma realizzato in collaborazione con Fisioradi Medical Center che va in onda tutti i lunedì alle 21 e 20 con prima replica alle 23 e 15 e sempre lunedì a seguire dopo Check Up Obiettivo Salute andremo a vedere anche il settimo concorso letterario Ideobook a partire dalle 21 e 30 ed è davvero tutto per questa edizione della telegiornale da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV vi ringrazio per averci seguito vi saluto augurandovi una buona serata in compagnia dei nostri programmi